La chirurgia plastica ha dei limiti, dei limiti che partono, come vedete, parla della chirurgia plastica ricostruttiva e la chirurgia plastica estetica. Ecco, che sono due ambiti. Due ambiti diversi, però fanno parte della nostra specialità, nel senso che c'è una parte che appunto serve per dare una possibilità di ricostruzione quando uno ha un trauma, un ostione, un tumore o cose di questo genere. Ma anche qua abbiamo già un limite, perché qual è il limite? Molta gente viene e dice, dottore, ma mi fa la plastica, facendo anche il gesto con la mano per cancellare la cicatrice, un po' come Karate Kid, quando c'era il film di Karate Kid. Togli la sera, metti la sera. E quindi vedo alcune volte la delusione negli occhi dei pazienti, quando gli fai capire che tu gliela puoi minimizzare la cicatrice, non gliela puoi cancellare. E di nuovo diventa importante la comunicazione, perché nella comunicazione noi spieghiamo al paziente fino a dove si può arrivare. È da lì che si deve partire, anche nella chirurgia estetica, fino a dove si può arrivare. Quali sono i limiti? Non posso arrivare nello studio di un professionista con una fotografia in una mano di un attore, piuttosto che di un'attrice, e dicendo vorrei diventare così. Perché questo è importante. E nell'articolo viene fuori come l'analisi, questa è una cosa che abbiamo sempre detto anche con Chiara alcuni anni fa quando abbiamo iniziato a fare queste trasmissioni, che tutto parte dalla comunicazione, dalla visita, dal corretto indirizzamento del paziente in un mondo che non è tutto frivolezza, ma è un mondo che serve per farti stare bene. Quindi per farti stare bene devi avere tutta una serie di nozioni che ti portano a sapere quello che riceverai.